Buongiorno e ben ritrovati. Ci incontriamo per il secondo appuntamento della nuova rubrica di Confindustria Brescia interamente dedicata agli appalti pubblici. Il tema di cui parliamo oggi è il subappalto, un istituto giuridico che ha subito nel corso del tempo molte modifiche e soprattutto molto frequenti tra loro. In generale il contratto d'appalto è un contratto con cui una parte si assume con organizzazione di mezzi propri a proprio rischio l'esecuzione di un lavoro o la prestazione di un servizio, dietro il pagamento di un corrispettivo in denaro. Il contratto di subappalto è un contratto diverso dal contratto d'appalto, è un contratto che deriva dal contratto d'appalto e con il quale l'appaltatore diventa a sua volta committente. Nell'ambito degli appalti pubblici il contratto di subappalto è il contratto con cui il terzo subappaltatore si inserisce nei rapporti tra l'affidatario e la stazione appaltante. Vediamo quindi a che condizioni questo può avvenire. Il codice dei contratti pubblici disciplina il subappalto partendo dai divieti. In base alla normativa oggi in vigore, dopo le modifiche apportate dal decreto legge 77 del 2021 della relativa legge di conversione, è vietato cedere il contratto d'appalto. L'aggiudicatario quindi non può cedere il complesso dei diritti e degli obblighi che discendono dal rapporto contrattuale stipulato e instaurato con la stazione appaltante. È vietato anche affidare integralmente l'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto d'appalto, quindi è vietato il cosiddetto subappalto totale. Non è possibile affidare poi l'esecuzione prevalente delle prestazioni riconducibili alle cosiddette categorie prevalenti, se siamo nell'ambito degli appalti pubblici di lavori, oppure dei contratti ad alta intensità di mano d'opera, cioè quei contratti cui il costo della mano d'opera è pari o superiore al 50% dell'importo del valore complessivo del contratto. Con subappalto invece è possibile affidare a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni oggetto del contratto d'appalto. Vediamo quindi cosa si intende per parte delle prestazioni per oggetto del contratto d'appalto. Per le procedure di gara il cui bando, il cui avviso è stato pubblicato in data successiva al 1 novembre del 2021 o il cui invito a presentare offerte preventive, è stato inoltrato successivamente a quella data, non esistono più quote limite al subappalto. È invece riconosciuta la facoltà della stazione appaltante di stabilire gara per gara l'eventuale limite al subappalto e quindi stabilire che la prestazione debba essere eseguita direttamente dall'affidatario. Questa facoltà è possibile attraverso una motivazione che fa ricorso e che deve richiamare particolari dell'appalto piuttosto che la necessità di garantire maggiore sicurezza e tutela dell'ambiente di lavoro. La previsione è mantenuta anche nell'attuale bozza del nuovo codice dei contratti pubblici. Per questo quindi per esempio nell'ambito di un appalto avente per oggetto la fornitura di componenti ad un alto contenuto tecnologico, la stazione appaltante potrebbe richiedere che la prestazione venga eseguita dall'affidatario e non sia quindi subappaltabile in ragione della delicatezza della prestazione della lavorazione richiesta. Oppure per esempio nell'ambito di un appalto per l'installazione di elettrodotti la stazione appaltante potrebbe richiedere che l'esecuzione venga fatta direttamente dall'affidatario per garantire un'omogenea ed univoca gestione della sicurezza sul luogo di lavoro ed evitare quindi che nell'ambito del cantiere abbiano accesso operatori economici diversi dall'affidatario, quindi che ci sia un unico operatore economico. Il Ministero ha chiarito che motivandolo la stazione appaltante può anche escludere completamente il ricorso al subappalto. Per quanto riguarda invece l'oggetto del contratto d'appalto è importante sapere che oltre alle fattispecie tipiche individuate dal codice dei contratti pubblici costituisce subappalto ogni contratto finalizzato ad eseguire parte della prestazione oggetto del contratto stipulato tra l'affidatario e la stazione appaltante. Il subappalto infatti si contraddistingue per il fatto che il subappaltatore esegue la sua prestazione direttamente a favore della stazione appaltante. Al contrario non costituiscono subappalto, oltre anche qui alle fattispecie tipiche individuate dal codice dei contratti pubblici, anche tutti quei contratti che sono diretti all'esecuzione di prestazioni e lavorazioni accessorie complementari all'oggetto del contratto stipulato dall'appaltatore con la stazione appaltante, anche se queste prestazioni sono necessarie per la buona esecuzione dell'appalto. Quindi per esempio non costituisce subappalto un contratto all'attività di trasporto, di rifiuti o di scarti nell'ambito di un appalto avente per oggetto la fornitura e la messa in opera di sistemi di storage, oppure non costituisce subappalto l'acquisto della materia prima nell'ambito di un appalto avente per oggetto la fornitura di casse di contenimento. La differenza è sostanziale perché i subcontratti che vengono stipulati per l'esecuzione dell'appalto vanno comunicati alla stazione appaltante. I subappalti invece devono essere autorizzati dalla stazione appaltante. Cosa deve fare quindi l'impresa che intende ricorrere al subappalto? Prima di tutto deve dichiarare la sua volontà in questo senso nel momento in cui presenta la domanda di partecipazione alla gara. Se poi risulterà giudicataria dovrà almeno 20 giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle prestazioni fornire alla stazione appaltante il contratto di subappalto, nonché una dichiarazione del subappaltatore con cui questi attesta di non incorrere in causa di esclusione e di possedere gli eventuali requisiti speciali richiesti dai documenti di gara. Se nel corso poi dell'esecuzione del contratto l'importo o l'oggetto del subappalto viene a modificarsi, l'impresa dovrà chiedere un'autorizzazione integrativa. La stazione appaltante ha 30 giorni per rilasciare l'autorizzazione che possono essere prorogati una volta soltanto e dei corsi inutilmente i quali l'autorizzazione si intende rilasciata. In base alla normativa attuale il subappaltatore deve essere qualificato nella specifica categoria se siamo nell'ambito degli appalti di lavori. Non deve incorrere in causa di esclusione e per tutte le procedure di gara avviate dopo il primo febbraio del 2022 il subappaltatore può essere anche un operatore economico che abbia partecipato alla medesima procedura di gara. Dopo le modifiche apportate dal decreto legge 77 del 2021 inoltre l'affidatario e il subappaltatore sono responsabili in solido per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. Questo significa che in caso di inadempimento del subappalto oggi a differenza di quello che accadeva prima la stazione appaltante può rivolgersi direttamente anche nei confronti del subappaltatore. Inoltre il subappaltatore deve garantire ai propri lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito l'appaltatore ai propri dipendenti. Questo obbligo si applica soltanto in alcune circostanze specificate e individuate dal codice dei contratti pubblici ed è un obbligo che attualmente è previsto anche nella bozza del nuovo codice dei contratti pubblici. In merito a questo aspetto l'Ispettorato Nazionale del lavoro ha chiarito che la nuova previsione si applica soltanto alle procedure di gara che sono state avviate dopo il primo giugno del 2021, quindi dopo l'entrata in vigore del decreto legge 77 del 2021. Che per la definizione del contratto collettivo nazionale applicabile bisogna fare riferimento all'oggetto del contratto d'appalto. Si applica il contratto collettivo che meglio regola le prestazioni oggetto della commessa e che in concreto andranno poi ad essere eseguite dai lavoratori coinvolti. In merito l'applicazione di questo obbligo va vagliata caso per caso perché è necessario bilanciare la libertà di scelta del contratto collettivo applicabile, che è prerogativa imprenditoriale, con la necessità di garantire coerenza tra il contratto collettivo applicato e l'oggetto dell'appalto. La giurisprudenza per esempio ha chiarito che non c'è coerenza tra il contratto collettivo nazionale gomma plastica e un appalto avente per oggetto i servizi di disinfezione in ambiente sanitario perché nonostante questo contratto si applichi anche alle imprese che producono attrezzature per l'uso scientifico e sanitario, in questo contratto non sono presenti le specifiche mansioni di decontaminazione e sterilizzazione che invece caratterizzano l'oggetto dell'appalto in questione. O ancora per esempio il servizio di ritiro, trasporto e smaltimento rifiuti è coerente con il contratto collettivo nazionale delle imprese e società esercenti servizi ambientali, mentre non c'è coerenza tra i profili professionali e le mansioni del contratto collettivo nazionale metalmeccanici. Rimane inoltre, e con questo ci abbiamo verso il termine di questo secondo appuntamento, permane nell'attuale normativa la responsabilità solidale dell'affidatario circa l'applicazione del trattamento economico e normativo stabilito dal contratto collettivo nazionale da parte del subappaltatore nei confronti dei propri dipendenti e delle prestazioni rese nell'ambito del subappalto. Siamo giunti al termine di questo secondo appuntamento, in caso di necessità di eventuali chiarimenti potete contattare l'area legale diritto di impresa rapporti con la pubblica amministrazione di Confindustria Brescia. Grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo mese. Grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo mese.